bene ora anna ci delizierà con una delle sue migliori poesie prego migliori non lo so comunque una poesia che ho scritto all'inizio di marzo forse questo desiderio di essere libera ci ci dà molto uno slancio e ci si fa immaginare un animale come la gazzetta vorrei essere una gazzetta sola e libera vorrei essere rifugiata nell'oasi delle gazzette ma non incontrarne nessuna datemi un nido accanto al fiume granchi d'acqua dolce e primavera datemi un tramonto da fine del mondo tre alberi bigi nessun antropofago a fotografare una brezza necessaria così lasciatemi stare disegnatemi a un bambino sono una piccola gazzetta di fiume non so dire il suo nome grazie a te anna